Il 19 febbraio si è riunito il Consiglio Comunale di Berceto con i voti favorevoli della sola maggioranza abbiamo inserito all'interno del bilancio comunale di previsione 2016 approvato nel dicembre 2015 con una variazione di bilancio appunto abbiamo inserito il sistema idrico integrato. Quindi nel bilancio comunale di Berceto ci sono oltre 500 mila euro in più di entrate e una previsione di spese di 500 mila euro perché tutto quello che si spende sull'acquedotto e sulla depurazione sono soldi che i cittadini si ritroveranno in bolletta e che quindi dovranno pagare ed è una spesa che deve essere remunerata appunto dalle bollette. Il Comune anche su questo servizio non può e non deve guadagnare, nel medesimo tempo deve garantire la perfezione della distribuzione dell'acqua e la depurazione. Quindi ci avviamo a passi molto veloci a una gestione interamente comunale di questo servizio idrico avendo potuto usufruire di una legge che è stata approvata dal Parlamento e dal Senato il 22 di dicembre che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 di gennaio e che è diventata operativa il 2 febbraio. Una legge che abbiamo potuto cogliere a differenza di altre amministrazioni comunali perché il Comune di Berceto già nel 2014 non faceva più parte della società Montagna 2000 e nel medesimo tempo avevamo anche tenuto nel 2013 un referendum dove oltre l'80% delle persone che erano venute a votare, che era il 52% dell'elettorato aveva dichiarato che voleva che la gestione dell'acqua fosse interamente pubblica.